L'edizione del 2023 del Vinitaly, tenutasi dal 2 al 5 aprile, si è conclusa con 93.000 presenze, di cui 29.600 straniere. Un'edizione determinata dagli ingressi dei buyer esteri, con il 20% in più rispetto all'ultima edizione, provenienti da 143 paesi. A dimostrare una particolare soddisfazione il presidente di Verona Fiere, Federico Bricolo, che ha sottolineato una chiusura di un Vinitaly finalmente a pieno regime, con una partecipazione corale di operatori, stampa e istituzioni. Gli investimenti fatti in favore dell'incoming estero, ha affermato invece Maurizio Danese, amministratore delegato di Verona Fiere, hanno dato un primo concreto risultato, un matching domanda-offerta che ha funzionato, come dimostrato anche dagli oltre 11.000 appuntamenti pianificati tra espositori e buyer della piattaforma Vinitaly Plus, che si aggiungono a quelli fissati direttamente tra aziende e buyer. Nella top 5 delle provenienze, gli Stati Uniti staccano nettamente la Germania, terzo rimane il Regno Unito, mentre la Cina torna in quarta posizione, scavalcando il Canada.